L'anticiclone delle Azzorre si estende a gran parte dell'Europa, mentre una circolazione di aria fredda in quota è isolata sul Mediterraneo occidentale e tende a spostarsi verso Levante attenuandosi. In Toscana, giovedì 10 settembre, velato in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio, possibilità di isolati rovesci sui rilievi, in particolare su Appennino e Amiata, venti deboli variabili tendenti a provenire da nord a nord-ovest dal pomeriggio, mari poco mossi, temperature in locale aumento le minime, in lieve calo le massime, soprattutto sulle zone occidentali. Sul territorio provinciale da Sereno a Velato fino a Nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 19, massima 30 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 17, massima 30, a Viareggio e sul litorale minima 18, massima 27 gradi. Venerdì cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con isolate e precipitazioni, temperature stazionarie.